Presidente, Astariti non è bravo, Astariti è un primo della classe. Astariti non ha i capelli tagliati alla moicana, non si veste come il figlio di uno spacciatore, non si mette le scarpe del fratello che puzzano. Astariti è pulito, perfetto. Interrogato si dispone al lato della cattedra, senza libri, senza appunti, senza imbrogli. Ripete la lezione senza pause, tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro. Alla fine gli metto otto ma vorrei tagliarmi la cosa. Astariti è una dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno.